Meno male che non mi hanno disarmata Evidentemente questi qua sono dei combattenti Che cazzo Tizio morto con una freccia Ok Dei giapponesi appesi un po' incazzati Brutto cinesi Sono bassi Questo basta E oh Gesù Vediamo un po' Oddio Yes Quel fucile ha pompa pompa Ui guardiani allora E beh si diciamo che non hai usato proprio Il metodo più carino Per fare le cose Ok E roba schifosa E 3, 2, 1 Anch'io Ma sei un'archeologa però La regina del sole e la guardia donante Possibile che quello di prima Oh my god Non so Magari non te ne riaccolta da tutto il simbolismo Ma perché E questa è lei Perché aprire le tombe Odio le tombe La apre Ma porca puttana Sembra un rituale del fuoco Una specie di sacrificio Orribile Perché le donne venivano messe a rogo Ai 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 Un viaggio Un pellegrinaggio Chi sia questo monastero Versa dell'acqua Perché C'è sempre lei No Non sta versando acqua Sta cedendo il potere È un rito di successione Una cerimonia che incorona la nuova regina Ah porca puttana Crepa Troia Yeah Boom Boom Splat Splat Morite tutti Bastardi Io sono Lara Croft Nota anche come Tromberaider E non Tomberaider Come tutti pensano Io sono Tromberaider Oh fuck Cos'è quel bestione Non lo so ma non lo voglio scoprire Andiamo di qua Ah lì su non ci possa arrivare vero? Credo no Quindi l'unica cosa che ci rimane da fare è Accogliere quante più munizioni possibili Perché quel bestione Probabilmente dovremmo affrontarlo in un futuro prossimo Poi portarci qua dietro Switchare di nuovo all'arco Perché è stupido switchare Suci la pompa E tirare E Dong Fare un casino in mane Fantastico Corri Lara Aspetta Fermi tutti Attrezzatura Ah bene Beh mentre combattono Pompa Ok E qua si sta sfasciando Tutto fantastico Geniale Solito culo di Lara Ok Lara Stai calma Stai buona Brava Così Perfetto E continuiamo ad andare avanti Wow fuck Gira 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 Perfetto Qui avanti Si sfascerà qualcos'altro Eccolo lì che arriva Ok Oh fuck No buono No buono Ah Eh Sali Nicely done Ok Col mio fucile A pompa Io ti ucciderò Sul serio Pensi che quello sia un buon punto Per nascondersi Allora Ricarichiamo Il fucile a pompa Ok Qua Perfetto Tututututu Raccogliamo Fa sempre bene Raccogliere la roba Eccoci qui Ho trovato il modo Di far cadere Quella Quindi Munizioni Non sono al massimo Splat Sono serio Questo è il massimo Che potevi fare Sei morto Nella maniera Più triste Di qualsiasi Cattivo Dei videogiochi Che fosse scagnozzo Boss Aha Allora Io ho capito Apri il vento Colpisci il gong Fai cadere la trave La trave cade Apre la porta sotto Fantastico Credo Dobbiamo aprire E vediamo cosa succede Apri 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 Nice Ok Poi di qua Apri 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 Ok E poi E tira Gang 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 Tira ancora Dai 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 Ce la puoi fare Riuscire a farla muovere abbastanza Forse non si muove abbastanza Così E poi Perché non funziona Diamine Allora Ricominciamo da capo Evidentemente non posso prenderla Finché non è Di nuovo Perché non vedo più un cazzo Magari una finestra alla volta Quindi queste Proviamo a chiuderle Ok Wow Aha Ok Capito Fantastico Grazie Tromb Raider Per Il tuo Fantastico Consiglio Poi apriamo di qua Quindi ho usato il gong A caso Uop Uop Vai Vai Oh fuck Ciao Splat Aia Ok Ancora Splat Splat Colpo la testa brutale Nice Ma dai Veramente Ok Materiali Roba a caso Apriamo anche questa Finestra qua E poi Suoniamo il gong Io avevo Ero arrivato Ero più avanti Di tutti Ormai Dai Gongala Splong Nicely done Wow 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 Splat Aia Ok Si è presa un legno Nella patata Oh fuck Corri Lara Corri 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 Aia Fuoco Va bene Fantastico Fantastico Wow 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 Ok Shit Fuck Damn Aia Pure And jump Ponte sospeso Molto pericolante Ponte sospeso Che cede Altro ponte Che cede Terra Scivolata Spara Spara Il mentre Prova anche A ricaricare Volendo Ok Gesù Che situazione Di merda Vero Lara Beh Potrebbe andare Peggio Mostro Dal nulla Lara Croft Sull'acqua Quadro del Sdicesimo Secondo Sam Pronto Sam Sono Lara Oh Lara Che bello Sentire la tua voce Anche la tua Sam Gli altri Sono con te No Ho rubato Questa radio A una guardia Una guardia Mi hanno rapita Cosa Dove ti trovi Non lo so Sembra un vecchio palazzo Giapponese Parlano di una Prova del cuoco Oh fuck Non è la prova del cuoco Che penso io Quella che hai visto prima Hai il palazzo Andiamo un po' Qua c'è la roba strana Let's go Perfetto Ehi Di qua Ok Un accampamento Che erano la guardia tonante Senti come parli Lara Sembri tuo padre Si direbbero I superstiti Di un'antica civiltà perduta Ok Ora sono proprio mio padre L'unica certezza È che hanno ucciso Quella gente E sono convinta Che non esiterebbero A uccidere anche me Però Ora non devo pensarci Sam è in pericolo E devo salvarla Al più presto Lei conta su di me Ok Punto abilità per noi Io prenderò questa Perché penso Fisicamente temprano Che potete spottare Quanto è la massima di munizione Ok Adesso qua Serve il grado 3 E steremo Va bene Quindi possiamo prendere questa Altrimenti possiamo andare In combattimento Quindi due colpi di picozza Che avevi succeduto Che sono due nemici Ok Questa ce l'ho Ma è strida picozza Usa picozza da scalata Per attaccare i nemici Con colpi micidiali Cosa attacco In schivata Schivano attacco E conficca una freccia E una gamba Nel nemico Per la zoppare Le nemici Meno corazzati Ci sono distante Ci sono distante Ok Questo sembra interessante Questo qua Quindi Apprendiamo Iop Fanta Stico Stico Stozzatura Stozzatura Eh E una fucile a pompa Fucile a pompa Sembra fico Stozzatura piena Aggiungere la morte di fuoco Alternativa Che riuscì alla dispersione Dalla africa E gestata maggiore Ok Canna forata Miora l'utilizzo dell'arma Per incontrare danni Infillitti Otturatore Levigato Sempre precisione Per queste cose Anche se ho un fucile a pompa Va bene ragazzi Io credo che in questo momento Terminerò questa sessione di registrazione Spero come sempre Che vi sia piaciuta Il gioco mi sta piacendo molto E ci vediamo Alla prossima sessione Per un altro po' di Tomb Raider Il mio nome è come sempre Quit108 Ciao a tutti